La energia si fa sentire sotto forma di fatture da pagare con luce e gas che in alcuni casi hanno visto triplicare i propri costi. Una situazione che sta costringendo gli esercenti a dover scegliere tra gli aumenti delle stili e la sospensione dell'attività in attesa di un intervento da parte del governo. Ed è per denunciare questa situazione che in diverse città italiane è scattata la protesta dal nome Bollette in vetrina. Un'operazione di trasparenza a livello nazionale per mostrare ai cittadini la situazione che vivono le imprese e per spiegare ai clienti perché stanno pagando il caffè un po' di più con il rischio nei prossimi mesi di ulteriori aumenti.